A kiss for you. Uomini e donne, Tina lascia il marito e ritorna sul trono Ecco quando Uomini e donne gossip, Tina annuncia in tv la separazione dal marito Kiko Nalli e fa una scelta clamorosa. Tina Cipollari ha scelto di voltare pagina e lo ha annunciato ufficialmente in televisione a Uomini e Donne. Video virgola lopinionista del dating show di Maria De Filippi, infatti, ha annunciato la fine del suo matrimonio con Kiko Nalli, il famoso heistilist che spesse volte vediamo nei programmi di Barbara Durso. Il loro amore è giunto definitivamente al capolinea e Tina ha rivelato per la prima volta in televisione davanti al pubblico di Uedì, che il suo matrimonio è giunto ufficialmente al termine. È finita tra Tina e il marito Kiko Nalli. Un annuncio clamoroso che ha lasciato senza parole la padrona di casa Maria De Filippi, la quale evidentemente pur avendo letto i vari giornali delle ultime settimane, non ha creduto alle indistrezioni che sono state riportate visto che da diversi mesi ormai si parlava di una possibile separazione in atto tra Tina e suo marito. Notizie che sono state sempre smentite dai due diretti interessati, i quali avevano sempre affermato che si trattava solo di rumors infondati e che il loro matrimonio non era affatto in crisi. Questa volta, però, Tina e Kiko hanno scelto di svuotare il sacco e hanno confermato la versione dei fatti fornita sui vari giornali di gossip. Nel dettaglio Tina Cipollari ha dichiarato che ormai il rapporto in casa con suo marito Kiko era diventato insostenibile e proprio per questo motivo hanno scelto di dirsi addio in maniera ufficiale e di intraprendere due cammini differenti, anche se al momento vivono ancora da separati in casa. Tina ritorna sul trono di uomini e donne. E così Tina Cipollari ha rivelato al pubblico di Cancelletto uomini e donne di essere ritornata di nuovo sul mercato e di essere pronta a rimettersi in gioco. Possiamo svelarvi, infatti, che Tina tornerà di nuovo sul trono di uomini e donne, in questi giorni sono partiti i casting ufficiali per scegliere quelli che saranno i nuovi pretendenti della Cipollari che nel corso delle prossime settimane arriveranno in studio per conoscere la dama. Ebbene sì, a distanza di anni dalla sua prima esperienza nelle vesti di tronista, video, ecco che Tina tornerà di nuovo a ricoprire il ruolo che un tempo le aveva portato tanta fortuna, visto che le permise di conoscere suo marito Kiko Nalli. La prima puntata di Ued con protagonista Tina nelle vesti di tronista del Trono Over sarà registrata questa settimana ma andrà in onda su Canale 5 solo a metà marzo. Seguite il nostro canale dedicato a Ued per gli aggiornamenti diretti.